La Regione Puglia sta pianificando la fase 2 dell'emergenza coronavirus anche dal punto di vista sanitario. L'idea è quella di riorganizzare l'intero sistema sanitario regionale. I dettagli nel servizio. Con ogni probabilità, la fase 2 dell'emergenza coronavirus vedrà anche la riapertura di alcuni servizi sospesi, visite ed esami di alcune specialistiche come ortopedia e chirurgia. A dirlo è stato il capo del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, nel corso della seduta congiunta delle commissioni consigliari bilancio e attività produttive, convocate per fare il punto sull'emergenza sanitaria. Il ritorno alla normalità, ha spiegato Montanaro, passa dalla individuazione di percorsi ospedalieri in entrate e uscite in sicurezza per tutte le attività extra covid e per tutti i cittadini che torneranno ad utilizzarle. Se per le strutture ospedaliere la riattivazione di esami e visite appare più semplice come percorso, Montanaro ha ammesso che è più complessa la strada che porta alla riattivazione dei servizi territoriali, che vede riflessioni a più ampio raggio, che chiamano in causa anche scenari futuri, dal momento che gli esperti ritengono seriamente possibile un ritorno del virus tra ottobre e novembre. In base a questa previsione, il sistema sanitario regionale sarà riorganizzato in modo da prevedere una rete ospedaliera covid ed una post-covid, affinché l'attività assistenziale ordinaria, anche di chirurgia complessa, prosegua comunque senza interruzione. Per la fase 2 ci serve la capacità del territorio di isolare, diagnosticare e trattare i casi nelle strutture ospedaliere, e meglio ancora se a casa, ha aggiunto Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consulente della Regione per l'emergenza pandemica. L'esperto ha ipotizzato anche i possibili scenari futuri, quando il numero dei casi andrà sempre più diminuendo, sperando che non se ne verifichino più. Non pervenendo alcuna indicazione dal livello centrale, stiamo procedendo a redigere in sede regionale una serie di indicatori da seguire per intervenire in questa fase, è l'idea del professore, che ha poi ribadito che il distanziamento sociale dovrà proseguire ed essere garantito anche a conclusione del lockdown.